Il Napoli ci crede e vuole la semifinale di Europa League. Al San Paolo, stasera contro l'Arsenal, bisogna però rimontare il 2-0 subito una settimana fa a Londra. Il tecnico partenopeo Carlo Ancelotti in attacco schiererà la coppia Milik-Insigne e crede nell'impresa. Vogliamo giocarceli tutti questi 90 minuti e questo non vuol dire che dobbiamo far gol, dobbiamo far gol nei primi 30, nei primi 10, nei primi 15, dobbiamo giocarla al massimo delle nostre possibilità come ho detto con grande coraggio, con grande intelligenza perché la vogliamo tenere aperta fino all'ultimo minuto possibile. Gli inglesi di Emery, che di Europa League se ne intende avendone vinte tre di fila ai tempi del Siviglia, avranno in attacco così la supporto di Lacazette e Aubameyang. Tra gli altri match in programma oggi il Chelsea dell'ex tecnico del Napoli, Maurizio Sarri, ospiterà lo Slavia Praga dopo la vittoria di misura in Repubblica Ceca, firmata Marco Salonso. Completano il quadro delle gare di ritorno dei quarti di finale a Intracht-Benfica e il derby spagnolo tra Valencia e Villareal.